Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non trattengono la passione dentro la casa del grande fratello I due non hanno più timore a baciarsi davanti a Javier Martinez e Elena Prestes, ma non sono mancati commenti velenosi da parte degli altri inquilini, zero tatto, stanno davvero esagerando Shaila e Lorenzo senza freni Shaila e Lorenzo, in un momento di relax, si sono concessi un bacio appassionato in giardino I due GFini erano appartati ma davanti a loro c'erano anche Elena Prestes e Javier Martinez, che stavano ballando e cantando insieme agli altri Il loro entusiasmo si è esaurito davanti al bacio che si sono scambiati il modello e l'ex Velina, non curanti della loro presenza Che vergogna, è gravissima questa cosa, ha scritto un utente su X commentando il video che è diventato virale in pochi minuti La mancanza di attenzione da parte di Shaila e Lorenzo è stata anche discussa dagli altri GFini, davanti a AVI stanno facendo il panico che non avete idea Vomitevole, ha commentato Jessica Morlacchi in cucina, ottenendo l'approvazione di tutti Le scene passionali sotto gli occhi di Javier Martinez hanno scatenato l'ira del web, secondo gli utenti, infatti, il pallavolista argentino sembra sia ancora molto preso dalla ballerina Shaila È chiaro che in casa, da quando Shaila e Lorenzo hanno parlato apertamente della loro relazione, gli inquilini si sono schierati dalla parte di Javier e Elena, reputando l'atteggiamento della coppia poco corretto